Rito fascista presenziato dal sottosegretario agli interni nella colonia Costanzo Ciano, costruita dalla direzione generale dei servizi anti incendi per i figli dei vigili del fuoco in occasione dello scoprimento di un busto dell'eroe di Cortellazzo. Successivamente sua eccellenza Buffarini Guidi ha assistito ad esercitazioni anti incendio svolte con bravura dai piccoli ospiti della colonia.